Allora, però, cercate di capire, ma tu li vedi tutti così? Sì Cerchiamo di capirci bene? Allora, io dico, uno, due, tre, io sto con Max e tutti insieme, va bene? Ah, facciamo una prova, va Allora, ascoltate anche il tempo, eh Conoscete la musica? Uno, due, tre Io sto con Max È arrivato lui, è arrivato lui Si può fare meglio con il controcanto, si può fare meglio, ne facciamo un altro paio Ci sincronizziamo tipo orchestra Mi raccomando, non fare la voce di cuore d'accordo Uno, due, tre Io sto con Max È bellino però con questo piano Ah beh, basta Grazie, grazie, grazie Grazie a tutti